La società anonima Eridania, fabbrica di zucchero, dall'antico nome del Po, inaugurò nel 1900 il proprio stabilimento di Forlì. La barbabietola da zucchero diventò così la prima cultura in Romagna superando la produzione della canapa, antica cultura di cui ancora oggi nella teconomastica romagnola si trova traccia da macerone di Cesena. Grazie. 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 Grazie.